Turismo ed economia circolare, binomio perfetto. Che cosa ha significato portare avanti questo nuovo progetto per Comieco? È un modo per tenere assieme l'Italia chiedendo ai nostri cittadini di mandare le fotografie più interessanti del paesaggio italiano e dei luoghi dove in particolare la carta ha una sua specificità. Penso alla biblioteca Malatestiana per esempio. Sono arrivate molte cartoline dai nostri concittadini e di questa abbiamo premiato quella che ci è sembrata la più bella, è un'immagine molto interessante, forte delle saline di Marsala, quindi abbiamo premiato una cittadina siciliana che peraltro è anche professoressa di lettere. Questo progetto per me è il progetto Comieco, è un progetto non solo che mi ricorda i vari colori della mia famiglia ma anche di sensibilazione mia e della mia famiglia e quindi di tutti quelli che ci seguono al reciclo della carta. Ho detto che la carta ci ricorda tante belle emozioni ed è vero, la carta da regalo, la carta dei quaderni, insomma adesso che siamo in un'epoca anche di internet, di iPad, di tecnologia, la carta prende ancora secondo me ancora più romanticismo, ancora più valore e ci ricorda sempre delle cose belle per me, la carta dei diplomi, la carta delle lauree, c'è un sacco di belle vibrazioni e quindi il riciclo della carta secondo me ti fa star bene fondamentalmente, lo vedi, ti aiuta e quindi noi vogliamo con questa paper week e soprattutto con quest'altro concorso che faremo, cartoline da Comieco, vogliamo sensibilizzare tutti quanti gli italiani al riciclo della carta, si salvano gli alberi ovviamente, si salva il verde, parliamo di sostenibilità, siamo qui nella casa della sostenibilità che è Comondo, quindi fondamentalmente sempre più sostenibilità.